Ci sarebbe, e sto usando il condizionale, stato uno screzio tra Alessia Maccussi e la collega Ilari Blasi. Le loro carriere, simili per molti versi, hanno infatti non dotto entrambe il programma televisivo in Iene, ma la rivalità tra le due, secondo la mia opinione, ci sarebbe. Ebbene, pensate che Alessia Maccussi avrebbe detto, abbiamo due stili diversi, queste sarebbero state le parole che avrebbe usato Alessia Maccussi al magazine 361 Magazine per l'appunto, parole che con ogni probabilità, ma non è sicuro, avrebbero fatto infiulare la bella Ilari Blasi. Anche perché queste parole sarebbero state accompagnate dall'intervista della Maccussi da elogi per Alfosso Signorini, compagno di avventura di Ilari Blasi, per quanto riguarda il grande fratello Peffo. E così, Ilari Blasi non avrebbe digerito, ma sono semplici congetture le mie e non sono notizie accettate, quindi sicure, quindi certe, ma, ripeto, semplici ipotesi. Dicevo, Ilari Blasi non avrebbe accettato le parole che avrebbe detto per l'appunto Alessia Maccussi e così, per così dire, comunque Alessia avrebbe stemperato l'atmosfera e avrebbe affermato che l'avvicendamento tra le due, la conduzione del GF, sarebbe stato concordato con il web, perché lei doveva passare con le mie probabilità al timone della conduzione nell'isola dei famosi. Ma ciò comunque non sarebbe bastato, da come si leggerebbe nel web di oggi, 27 gennaio 2017, affinché la situazione tornasse a una felice e tranquilla calma. Questo sarebbe quanto, se in tale video fossero presenti delle inesattezze, me ne scuso, in quanto chi vi parla non è un giornalista, pertanto escludo su di me eventuali responsabilità di qualsiasi voglia natura. Questo video vuole solo informare eventuali persone, nasce solo per questo motivo, non per altri motivi. Come avete ascoltato, però, utenti di YouTube, ho utilizzato il condizionale, proprio perché non voglio avere problemi con la legge e quindi con la giustizia, ma come avete ascoltato, le mie sono solo ipotesi, solo ipotesi. Detto ciò, grazie, stima e nei confronti di Alessia Marcuzzi e nei confronti di Ilari Blasi, due conduttrici di cui ho una, per così dire, ammirazione totale.